Cammina! Prendiamo Charlie! Delico al centro! Abbiamo tutte le posizioni! Intervieni su Charlie! Stordente partita! Ricarico! Serve supporto a Charlie! Abbiamo perso, sì! Attacco al grappolo nemico! Abbiamo una corretta robot! Attacco al grappolo nemico! Arrivano! Nemico! Rimini era! E controlliamo due! Siamo in vantaggio! Ok! Centrato! Nemici! Voi! Non ci ci troviamo! Non ci troviamo!